buongiorno a tutti darpapi io ho fatto conoscenza siamo dal meccanico per vedere il problema della luce della macchina e c'è un bel gattino alle 9 e mezza del mattino vieni qua vieni vieni piccolino io ho già suonato le pasticche anche a romolo stamattina italia a quattro zampe hollus è sempre attiva ma questa qui è di qualcuno però perché prima gli stavano facendo le coccole piccolino piccolino amore mio ma ti sei bellissimo buongiorno italia a quattro zampe hollus la voce di tanti pelosetti del mondo